Ben trovati a una nuova video intervista di Eno News. Oggi parliamo di miglior sommelier d'Italia perché ci sono due siciliani che parteciperanno il 20 e 21 novembre a Bologna alla finale. Si tratta di Laura Piscopo che è la miglior sommelier di Sicilia in carica e Pietro Giurdanella che invece è il miglior sommelier di Sicilia 2020 e che abbiamo l'onore di avere ospite. Ben trovato Pietro. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. E allora sicuramente una bella avventura quella a cui vi apprestate tu e Laura perché cercherete di difendere i colori siciliani e di conquistare questo ambito titolo? Assolutamente. Già una grande soddisfazione avere la possibilità di partecipare come miglior sommelier 2020 nel mio caso. Nel caso di Laura attualmente è la miglior sommelier della Sicilia. Sì 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 assolutamente. Da un mese credo. Quindi siamo precisi. E quindi andiamo a fare questa esperienza. Scusate. E niente. Una finale in due giorni. Una finale in due giorni. Giorno 20 di novembre ci presenteremo alle prove scritte. Ci sarà uno scritto iniziale su 18 concorrenti da tutta Italia. Chi supererà poi i primi quattro che supereranno questa fase poi andranno nella finale che si terrà il 21 di novembre. Uno scritto che immaginiamo sia di cultura generale, no? Sempre riguardante il mondo del vino. Esattamente. Ma non solo il mondo del vino, anche il mondo delle birre, dei distillati, anche dei tè, delle acque, degli oli extravergine d'oliva. Quindi è una prova abbastanza... Credo che sia anche molto tosta da questo punto di vista, visto che si parla... Certo. Assolutamente. Assolutamente. Tu come ti stai preparando in questi mesi, quando hai saputo della partecipazione? Come hai iniziato ad allenarti, a prepararti, a studiare? Della partecipazione ho appreso durante l'ultima edizione del concorso. Quindi un mese fa ho saputo che anche io avrei avuto questa possibilità di partecipare. Quindi non si parla di mesi, ma mese, uno. Un mese. Quindi già il tempo è veramente pochissimo. Però è chiaro, conciliare poi quelli che sono gli impegni di lavoro, la famiglia, con un bambino piccolo di due anni, non è sempre facile riuscire a ritagliarsi questo tempo che, malgrado tutto, riesco a fare soprattutto la notte. Quando tutti dormono, io sono sui libri a cercare di immagazzinare più informazioni possibili per cercare di superare la fase del test. Ormai mancano pochissimi giorni davvero. Ti senti pronto? Hai individuato in te qualche lacuna? Come affronti questa finale? L'impresa è sicuramente ardua. Anche perché ti dico, dopo l'anno scorso, quando ho vinto il concorso regionale 2020, pensavo che nell'immediatezza si potesse realizzare anche il nazionale. Poi, per via del lockdown, è stato tutto rinviato. Quindi avevo perso un po' questa speranza. Ho detto, vabbè, è saltato. Poi è venuto fuori questo. Quindi è stata una bellissima sorpresa perché ci tenevo tantissimo a fare questo tipo di esperienze, che comunque è un'esperienza di crescita. Poi mettersi a confronto con gli altri, ma anche con se stessi. Io in questo periodo di studio sto vedendo proprio tutto questo. Hai avuto modo di confrontarti con Laura, con Laura Piscopo, per capire un po' le conoscenze reciproche? Assolutamente. Già con Laura, già l'anno scorso, è iniziato subito questo rapporto di amicizia e di stima reciproca, che è continuato anche in questo tempo e soprattutto in questo periodo di studio, che ci sentiamo praticamente quotidianamente su come organizzare lo studio, su cosa studiare. Tra l'altro insieme adesso ci stiamo preparando anche per la realizzazione del prossimo evento sulla degustazione di Lungarotti, che si terrà il 26. Quindi siamo in continuo contatto anche per un supporto, perché ci sono stati anche nel mio caso momenti di sconforto, detto non ci arrivo a fare tutto, anche perché fare tutto è veramente... È davvero un'impresa, un'impresa è... Certo, devi essere fortunato che ti possa uscire qualcosa che tu sei ampiamente preparato. Sembra più complesso di un esame di maturità, di un esame universitario, perché la materia è molto più vasta. Sì, è più complesso, devo dire la verità. Ho riprovato le stesse emozioni di quando mi sono diplomato ai tempi della scuola superiore, perché passi da un libro all'altro, cerchi le informazioni su internet, poi è chiaro la notte, non è come studiare di giorno, già arrivi stanco e quindi non è semplice. Pietro, due domande veloci prima di lasciarti i tuoi impegni. Ci ricordi qual è il tuo vino preferito? Ma ne ho diversi i vini preferiti. Quello che ti ha fatto innamorare di questa professione? Quello che mi ha fatto innamorare di questa professione è anche un vino alla quale sono molto legato, che è Mille Una Notte di Donna Fugata. Quindi scopriamo qualcosa in più di te e poi cosa ti ha fatto avvicinare al mondo della sommeleria e del vino? Ma ai tempi della scuola già risale questa passione per il vino, perché ho avuto sempre nella mia testa il fatto di fare il bartender da sempre, l'ho fatto per tanti anni, poi alla scuola superiore con il professore di Vincenzo Tubolino, poi con i corsi post qualifica con Camillo Privitera, poi ci siamo avvicinati un po' tutti al mondo del vino e poi ho continuato con i corsi ICE, quindi considera che dal 2001 sono circa 20 anni che sono socio in ICE. Sono diventato sommelier poi nel 2009 perché attendevo il primo terzo livello che si è fatto a Siracusa e quindi finalmente è arrivato anche questo. Ai giovani, ma non solo giovani, che vogliono avvicinarsi al mondo dei sommelier, cosa consigli? Ma consiglio innanzitutto di frequentare i corsi dell'Associazione Italiana Sommelier, perché sono corsi che professionalmente ti preparano al mondo del vino, al mondo del lavoro. Quindi per chi ha la passione del vino, ma anche per i semplici appassionati, i wild lovers che vogliono avvicinarsi a questo mondo, consiglio di frequentare questi corsi. È un mondo bellissimo, un mondo infinito, non si finisce mai di imparare qualcosa, sempre il mondo del vino è in continuo cambiamento, anche sulle tecniche di servizio da questo punto di vista, la tecnica della degustazione, l'abbinamento cibo-vino, cioè tutto questo è appassionante. Noi viviamo di questo anche quando non siamo al lavoro. Quindi è proprio una passione che è totalizzante. Assolutamente, assolutamente, sì sì sì, è un mondo meraviglioso, perché d'altro ti avvicina anche alle persone che operano nel mondo del vino, quindi questo continuo confrontarsi, anche sulle degustazioni, sugli eventi, sulle manifestazioni, insomma, è un mondo che ti prende a tutto tonno, a 365 gradi. E si vede anche dal tuo sorriso l'entusiasmo, la passione che metti. Noi auguriamo naturalmente a te, Laura, i migliori auguri, fatevi valere, non diciamo altro anche per scaramanzia, speriamo di poterci comunque rivedere per commentare altro. Laura Piscopo, miglior sommelier di Sicilia 2021, e Pietro Giordanel, miglior sommelier 2020, saranno loro a difendere i colori siciliani al concorso di miglior sommelier d'Italia, premio Trento Doc, il 20 e 21 novembre a Bologna. Ciao Piero e grazie. Grazie mille, ciao a voi, grazie.